Il governo compra i servizi essenzialmente facendo quelli che noi chiamiamo Public Social Partnerships con delle NGO non profit. Allora in questo ambito c'è molto spazio da sviluppare. L'esperienza di Coine al servizio dello sviluppo della cooperazione dei servizi sociali a Malta, Foundation for Social Welfare Service, la cooperativa sociale Coine e Rete Coine hanno sottoscritto ad Arezzo un memorandum, il cui punto di partenza è stato lo sviluppo dei servizi per l'infanzia a Malta. Partiremo dai nidi perché su questo abbiamo esperienza, abbiamo anche tante risorse professionali che bene possiamo impiegare e poi allargheremo l'esperienza anche al tema della disabilità e dell'assistenza a persone con bisogni colnesi alla salute mentale. Il nostro obiettivo e l'oggetto del confronto è attivare in gozzo una scuola cogestita da Coine e FSVS e ad avere qua ad Arezzo uno spazio per ospitare i maltesi che vengano a fare esperienze in contesto dei nostri servizi.